Procediamo al montaggio della macchinetta passo pomodori. Stringiamo con l'apposita chioretta in dotazione. Poi si procede ad inserire la covola facendo attenzione di far tornare i pezzi perfettamente e assicurando che funziona l'effetto molla. Si inserisce un'altra fila spingendo a molla e girando un pochettino. Spingendo 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 un pochettino. facciamo una piccola prova perfetto grazie a tutti